Sarà il gruppo statunitense Boeing, costruttore di aeromobili, a risarcire le famiglie delle 157 vittime del 737, caduto in Etiopia nel marzo del 2019. Nell'incidente morirono anche due aretini, Carlo e Gabriella Spini. Il volo 302 con destinazione Nairobi si abbatte su un campo a sud-est della capitale a Dissabeba, sei minuti dopo il decollo. La figlia Elisabetta non nasconde la sua emozione ai nostri microfoni. Sono contenta per i piloti e le loro famiglie perché comunque loro hanno fatto di tutto per salvare le persone che avevano a bordo, quindi un riconoscimento a loro. Alla coppia è stato dedicato un ospedale nel sud del Sudan e forse sarà intitolato loro anche il secondo ponte sul Tevere. Quando io sono andata giù all'inaugurazione dell'ospedale, nel momento appena finito la festa di inaugurazione, è arrivata una mamma, ha partorito una bambina e ha deciso di chiamarla Gabriella come la mia mamma. Tu hai assistito a questo parto? Sì. Che emozione hai ricevuto quando è nata questa bimba? Veder nascere una vita è sempre un'emozione unica, quindi contentezza, felicità, emozione. L'ospedale serve alla popolazione, sono state tante nascite, c'è un punto vaccinazioni, c'è un laboratorio analisi. Credo che sia un punto di riferimento per Giuba. Molte persone si chiamano o si chiameranno con quei nomi di tuoi genitori? Sì, sì, ci sono tanti bambini che si chiamano Carlo, Gabriella, Matteo. A Sansepolcro che cosa si dice ancora dei tuoi genitori? La popolazione li vuole bene, li ricorda con affetto, di questo siamo grati a tutti insomma, anche perché la comunità è piccola e quindi mio padre ha lavorato all'ospedale di Sansepolcro una vita, quindi li conoscevano tutti insomma. L'amore per il prossimo, ci confida la figlia Elisabetta, che è un'infermiera così come era la madre, sarà la loro più grande eredità. Hanno dedicato la loro vita agli altri, sia nel lavoro qui, in zona, che in Africa. Quindi è il loro esempio, ma è l'esempio che ci stanno dando tutti i colleghi, tutti i medici e gli infermieri nel mondo.